Unire le forze per mappare e coordinare le attività utili al consolidamento del prodotto turistico, sport, natura e benessere, con uno specifico focus su cammini, itinerari culturali e bike tourism. E questo è il fulcro dell'accordo di cooperazione sottoscritto nella Sala Brembo della Fiera di Bergamo durante l'Assemblea Annuale dell'Anci, da Anci Puglia, dal Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia e dall'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione. È un'iniziativa che Anci Puglia ha voluto sin dal primo giorno. La possibilità che all'interno di Anci Puglia ci sia questa sezione dedicata alla Bike Economy e tutto ciò che ne deriva diventa fondamentale e strategico. Un impegno condiviso per favorire lo sviluppo di modelli di turismo lento e sostenibile, di esperienze a piedi, in bici e a contatto con la natura, quali volano di valorizzazione e promozione della destinazione Puglia e di realtà turistiche meno conosciute nel territorio regionale. La Puglia si distingue non solo perché si viene in Puglia e si va bene in bicicletta, ma perché venendo in Puglia si scopre che si va bene in bicicletta e si torna per andare in bicicletta. La competitività del brand Puglia sul piano nazionale ed internazionale passa da un'offerta turistica ampia ed in grado di coinvolgere più tipologie di viaggiatori durante tutto l'anno. L'Assemblea nazionale del Lanci è l'occasione per stringere insieme con i comuni della Puglia una sinergia, una strategia, una condivisione rispetto a politiche importanti, in particolare su prodotti fondamentali come i cammini e il cicloturismo. Secondo le ultime stime, in Italia la forte crescita dei cammini permetterà di raggiungere un indotto economico di circa 35 milioni di euro all'anno.